Voi, voi, Israele, voi, voi, Israele, Palestina, basta tu! Palestina, basta tu! Lo che solicitiamo da qui, questa riunione che ha venuto molta gente, lo primero è che siamo molto indignati e indignati con questa inaccezione che si fa a tutti i ambiti, quindi pediamo da qui che si acabano tutti i accordi con il Estado sionista di Israele, fino a che si capta i Derechos Humani. Prendiamo anche a tutta la cittadinanza che, da un suo piccolo ambito, faccia un piccolo boicot a tutti i prodotti israeliani, per, in questo modo, fare un po' di pressione e che queste indiscriminazioni indiscriminate, questo gran genocidio che si sta facendo, senza che nessuno possa fare nulla, almeno che si pare già. Grazie. 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 Grazie.